Buongiorno. Nella parashah di questa settimana, Balak, ascoltiamo il primo riferimento al Messia che tutti gli ebrei aspettano. Cito. Il profeta non ebreo, Balaam, disse, Ho udito le parole di Dio, e conosco la scienza dell'Altissimo, e ho visto la visione dell'Onnipotente. Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunterà da Giacobbe, e uno scettro sorgerà da Israele. Uno di Giacobbe dominerà i suoi nemici. Tutti i commentatori sono d'accordo che questo passaggio si riferisce al futuro Messia. Il profeta Isaia elaborò, cito, Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità. È chiamato consigliere ammirabile del Dio potente, del Padre eterno e principe della pace. La sua missione sarà di accrescere il governo, stabilire una pace senza fine sul trono di David e sul suo regno, e sostenerla attraverso la giustizia e la rettitudine da quel momento in avanti e per sempre. Più tardi, Isaia aggiunge, cito, Dio, un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. E non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia, e con il soffio delle sue labbra ucciderà il malvagio. Il lupo dimorrerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non aggeranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. E un quel giorno una radice di esse si leverà e i popoli la cercheranno con ansia. In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano per redimere il resto del suo popolo e raccoglierà gli espulsi di Israele. Radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non molesterà più Efraim. Fine della citazione. Quindi, noi ebrei aspettiamo il Messia. La parola ebraica è mashiach, significa l'unto, quello che è unto, perché nei tempi antichi i re erano unti con olio quando cominciavano il loro regno. Nel corso dei secoli ci sono stati molti contendenti, ma i rabbini li hanno squalificati tutti. Perché? Quali sono esattamente i requisiti del lavoro? Cosa ci aspettiamo? Cosa succederà dopo che arriva? Forse lei ha i requisiti necessari per questo lavoro? Dalle citazioni sopra, concludiamo che il Messia sarà un essere umano, è scritto poiché un bambino è nato per noi . Sarà un ebreo, discendente dal re David, è scritto una radice di esse . Libererà Israele dai suoi nemici, è scritto con il soffio delle sue labbra ucciderà il malvagio. Ricondurrà gli esiliati nella terra di Israele, è scritto, e in quel giorno il Signore radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Governerà e giudicherà equamente, è scritto, giudicherà con giustizia. Porterà la pace universale, è scritto, il lupo dimorrerà insieme con l'agnello. Ve garze ev rim keves, ve ne mar rim gedim. Le persone smetteranno di litigare e invidiarsi a vicenda. È scritto, Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non molesterà più Efraim. Farà sì che Dio sia riconosciuto da tutta l'umanità. È scritto, la terra sarà piena della conoscenza del Signore. Mal ahah aretz vea et Hashem. Anche il Tempio sarà ricostruito, poiché era in piedi al tempo di Isaïa. Ma i sacrifici e le preghiere si limiteranno al ringraziamento, perché non ci sarà bisogno di offerte per peccati o colpe o per preghiere petitive. Il Midrash dice, cito, nel mondo a venire verranno aboliti tutti i sacrifici, tranne l'offerta del ringraziamento, e tutte le preghiere saranno annullate, tranne quelle per il ringraziamento. La liturgia ebraica è piena di riferimenti al futuro Messia. Nell'Amidà, che recitiamo tre volte al giorno, preghiamo per tutti i risultati messianici promessi. La benedizione numero dieci si riferisce al raduno degli esiliati. La benedizione numero undici si riferisce al ripristino della giustizia. La benedizione numero dodici si riferisce alla fine dell'oppressione nemica. La benedizione numero tredici si riferisce alla ricompensa data ai giusti. La benedizione numero quattordici si riferisce alla ricostruzione di Gerusalemme. La benedizione numero quindici si riferisce alla venuta del Messia. La benedizione numero diciassette si riferisce al ristauro del tempo. E la benedizione numero diciannove si riferisce alla pace universale. Il Messia avrà un precursore nella sua vita. Il Talmud dice, cito, Mashiach ben Yosef, il Messia figlio di Giuseppe, apparirà davanti a Mashiach ben David, il Messia figlio di David, e annuncerà la sua venuta, preparerà il terreno e sarà ucciso in guerra. Inoltre, il profeta Elia tornerà per primo. Il profeta Malachia riferisce ciò che Dio gli disse. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Durante la Havdalah, che conclude il Shabbat, cantiamo una canzone chiedendo che Elia venga e porti con se il Messia. Eliahu hanavi, bimherà b'yameno, yavò a'elenu, rim Mashiach ben David. Il profeta Elia possa venire presto da noi ai nostri giorni con il Messia il figlio di David. Nella Birkat ha-Mazon, la preghiera dopo i pasti, chiediamo anche la venuta di Elia. Ha-Rahman huishlachlano et Eliahu hanavi, zachur latov, vivasser lano besorot tovot, yeshuot ve nehamot. Possa il misericordioso inviarci Elia il profeta, possa esser ricordato per il bene e possa dirci il notizie di bontà, salvezza e conforto. Il re Ciro di Persia, che permise a Israele di tornare dalla prigionia bebilonese e di ricostruire il Tempio, viene anche chiamato Mashiach da Isaia. Cito, così dice il Signore al suo Messia a Ciro, le Meshihò le Koresh. Alcuni gruppi ebrei, come Hassidim Satmar or Nettorei Karta, credono che solo il Messia di Israele radunerà gli esiliati, e per questo respingono lo Stato di Israele. All'altra estremità dello spettro, molti ebrei laici vedono David ben Gurion, il principale fondatore dello Stato di Israele, come un Messia ebreo secolare, e lo Stato stesso come Reshiz mihad geullatenu, l'inizio della fioritura della nostra redenzione. Notate che un Essere divino che si sacrifica per espiare i nostri peccati non è un concetto ebraico. Maimonide spiega il vero scopo del concetto del Messia. Cito I saggi e i profeti non bramavano l'era del Messia per governare il mondo, o per mangiare, bere e rallegrarsi, ma solo per essere liberi per la Torah e la sua saggezza, e per sbarazzarsi di qualsiasi oppressore e sabotatore. Uno dei suoi tredici principi della fede ebraica è che di credere attne l'arrivo del Messia. Mashiach. Anima amin be'emunah shellema be'viat ha-mashiach, ve'af al-pi che yitmahmeha in kol ze achacke lo be'chol yom che'yavu. Credo con completa fiducia nella venuta del Messia, e anche se potrebbe indugiare lo aspetterò ancora. Quando verrà il Messia? In generale, la tradizione ebraica dice che verrà quando sarà più necessario o quando sarà più meritato. Ecco alcune possibilità. Il Messia verrà quando Israele si pensirà. Il Talmud dice, Rav ha detto, l'arrivo del Messia dipende solo dal pentimento e dalle buone azioni. Il rabbino Eliezer ha detto, se Israele si pentirà, saranno redenti. In caso contrario, non saranno redenti. Il rabbino Jehoshua gli disse, se non si pentono, il Santo Benedetto sia lui istituirà un re su di loro, i cui decreti saranno crudei come quelli di Haman, per cui Israele si impegnerà nel pentimento e così li farà ritornare sulla strada giusta. Secondo, il Messia verrà quando tutto Israele osserverà correttamente due shabbatot di fila. Il Talmud dice, Rav Yohanan ha detto in nome del rabbino Shim'on bar Yochai, se tutto Israele potesse mantenere due shabbatot, secondo le leggi del shabbat, meriterebbero la redenzione immediata. Terzo, il Messia arriverà nel momento in cui Dio ha già deciso, ma potrebbe arrivare prima, se tutto Israele osserverà correttamente anche un solo shabbat. Il Midrash dice, cito, Rabbi Levi ha detto, se Israele potesse mantenere il shabbat correttamente anche per un giorno, il figlio di David verrebbe. Rabbi Yohanan ha detto, il Santo sia Benedetto, disse ad Israele, io ho fissato un tempo definito per il millennio, e verrà nel tempo stabilito se Israele torna da me in penitenza o no. Comunque, se si pentiranno anche per un solo giorno, io lo porterò prima del tempo stabilito. Proprio come scopriamo che il figlio di David verrà come ricompensa per l'osservanza di tutti i comandamenti, così verrà anche per l'osservanza di shabbat, perché shabbat è equivalente a tutti i comandamenti. Il Talmud di Gerusalemme conferma questo insegnamento. Cito, anche se ho fissato un limite alla fine dei giorni che accadrà a suo tempo indipendentemente del fatto che si pentano o no, il figlio di David, il Messia, arriverà se mantengono un solo shabbat, perché shabbat è equivalente a tutti i comandamenti. C'è un problema qui. Chi è tutto Israele? Ci sono molte persone oggi che hanno un'antenata sulla linea matrilineare che si è convertita dall'ebraismo a un'altra religione. Questo rende queste persone completamente ebree, secondo la legge ebraica, ma loro non sanno di essere ebrei. Oggi possono persino costituire la maggioranza degli ebrei. In quarto luogo, il Messia verrà quando Israele sarà unito. Quando Giacobbe era sul letto di morte, disse ai suoi figli, Radunatevi, perché io vi annunzi quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate. Il Midrash interpreta questo nel senso seguente. Cito, Anche se non si sa quando sarà il giorno del giudizio, vi dico che l'ora che vi raccoglierete e vi radunerete insieme, sarete ridenti. In effetti, a Dio piace l'unità ebraica. Il Midrash ci dice, cito, E' scritto, e Israele si ancampò lì. Non dice i figli di Israele, ma Israele, nel senso che erano uniti. Vedendo questo, il Santo Benedetto sia Lui ha detto, questo è il momento in cui darò la Torah ai miei figli. In quinto luogo, il Messia verrà solo quando gli ebrei saranno nei guai. Il Talmud insegna, cito, Rabbi Yohanan ha detto, quando vedi una generazione in declino, aspetta l'arrivo del Messia. Quando vedi una generazione sopraffatta da molti problemi come da un fiume, aspetta l'arrivo del Messia. In sesto luogo, il Messia verrà quando l'attuale generazione sarà totalmente malvagia. Il rabbin Hassidico del diciannovesimo secolo, Rabbi Tzadok HaKohen di Lublino, scrive, cito, La redenzione emergerà proprio da un luogo di lussuria e peccato, mediante il pentimento. Teshuva. Il Talmud dice in Sanhedrin 98a, il figlio di David, cioè il Messia, verrà solo in una generazione interamente malvagia. David è l'archetipo dell'anima messianica perché ha mostrato come trasformare il pensimento in un principio di vita. E proprio questa è la realizzazione del compimento ultimo che la radice del male si trasformerà in bene. A quel tempo il più basso diventerà il massimo. Ma ciò non incoraggerebbe la gente a credere in cattivi comportamenti, allo scopo esplicito di far venire il Messia. È successo nel passato, come con Giacobbe Frank, falso Messia. Settimo, il Messia arriverà quando l'attuale generazione sarà totalmente giusta. Il Talmud dice, Rabbi Hanan ha detto anche, il figlio di David verrà solo in una generazione che è del tutto malvagia o del tutto giusta. Il Talmud insegna anche che il Messia nascerà il giorno di Tisha B'Av, il giorno in cui commemoriamo la distruzione del Tempio. Alcuni sostengono che il Messia è nato nel Medio Oriente nel 1949. Tisha B'Av nel 1949 era il 4 agosto. Io sono nato in Egitto il 4 settembre 1949. Quindi, per mancanza di un mese, non posso essere il Messia. Cercare date per l'arrivo del Messia è stato un passatempo continuo, fin dal Medio Evo. Molte date previste coincidono con terribili persecuzioni contro gli ebrei. le crociate nel 1096, la morte nera in Europa nel 1346, l'espulsione dalla Spagna nel 1492, i massacri di Khmerliki in Polonia e Ucraina nel 1648, ecc. Tutti furono chiamati i dolori di parto del Messia . Ai rabbini non è mai piaciuta la pratica di cercare di prevedere il tempo della venuta del Messia, perché temevano che gli errori avrebbero fatto perdere la fiducia all'idea messianica o persino all'ebraismo. Leggiamo in Sefer Hasidin, scritto nella Germania del dodicesimo secolo, cito, Se vedi che un uomo ha profetizzato l'avvento del Messia, sappi che è impegnato nella stregoneria o nei rapporti con i diavoli, o che usa il potere del nome divino. Bisogna dire a un tal uomo non parlare in questo modo. E' interessante notare che il Messia sembra avere una discendenza che deriva da attività fortemente disapprovate dalla Torah. La Bibbia ci dice che la sua discendenza è la seguente. Lot ha rapporti sessuali con sua figlia, e il risultato è Moab, antenato di Ruth. Giuda, sposata con una donna cananea, ha rapporti sessuali con la nuora Tamar, travestita da prostituita, e il risultato è Peretz, antenato di Boaz. Boaz sposa Ruth, e il loro figlio Obed è l'antenato del re David. Il re David sposa Bezabea, dopo aver mandato il marito di Bezabea, Uriah, in missione suicida. Il loro figlio è il re Salomone. Salomone è l'antenato del futuro Messia. Quindi, il Messia sarà il prodotto di incesto, matrimonio con idolatri, visite a prostituite, inganno, adulterio e abuso di potere al limite dell'omicidio. Qual è la lezione, qui? Forse che un bene può sempre venire da un male. Nel corso della storia ebraica, incontriamo molti pretendenti al titolo di Messia. La maggior parte sono sconosciuti, o poco conosciuti. Molti ebrei, in particolare Hassidim, credono che ci sia qualcuno in ogni generazione che potrebbe essere il Messia. Lo chiamano Tzaddik Hador, il giusto della generazione. Esploriamo alcuni candidati fra i più noti. Giuda Maccabeo. Condusse con successo una rivolta contro l'impero greco se le uccide di Antioco Epifane. Molti l'hanno riconosciuto come il Messia perché ha liberato gli ebrei dalla dominazione straniera. E gli eventi della sua vita sono paralleli alle profezie trovate nel libro di Daniele, capitolo 8. Morì nell'anno 160 avanti era volgare. Gesù di Nazareth, nato nell'anno 4 dell'era volgare e morto nell'anno 30, è stato il candidato più noto e influente. I suoi due miliardi e mezzo di seguaci nel mondo d'oggi credono che fosse il Messia. Tuttavia, la fiducia in lui non era forte nella terra di Israele e doveva essere esporta per mettere radici, per mano di Paolo. Toldoti Eshù, un resoconto ebraico poco-losiunghiero delle origini del cristianesimo, afferma che Paolo stava seguendo gli ordini del Sinedrio di separare i credenti in Gesù dagli altri ebrei, creando una nuova religione distinta dall'ebraismo. Bar Kokhba, morto nel 135, guidò la seconda rivolta contro Roma e fu accettato da molti come il Messia, incluso l'influente rabbino Akiva. Il Midrash dice, cito, quando il rabbino Akiva vide Bar Kokhba, esclamò, questo è il re Messia. Rabbi Yohanan Bar-Tolta ribatté Akiva, l'erba crescerà nelle tue guance e il Messia non sarà ancora arrivato. Nel 448, un ebreo che affermava di essere Mosè, disse agli ebrei di Creta che li avrebbe portati in Giudea senza navi. Ordinò loro di saltare il mare, e molti affogarono. Nell'Europa del XVI secolo, David Rubeni disse di essere il fratello del re di Khaybar, una città dell'Arabia in cui si diceva che abitassero la tribù, le tribù di Ruben e Gad, e che fu inviato in Europa per assicurare armi e alleanze per combattere i musulmani. Unì le forze con Salomone Moljo, un converso e mistico, ricevette un'eccellente accoglienza dalle autorità cristiane, e molti ebrei lo accettarono come il Messia. Tuttavia, Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna, lo costrinse a convertirsi al cristianesimo, quindi lo imprigionò e bruciò Moljo sul rogo nel 1532. Nell'Europa del XVI secolo, i massacri di Chmelniki, che uccisero 300.000 ebrei, portarono molti al messianismo e poi al hasidismo. Un uomo chiamato Shabbatai Tzvi, pensò di essere il Messia, nel 1665, spronato da un certo Natan di Gaza. Rabbini importanti lo accettarono. Milioni di ebrei partirono per Gerusalemme. Il sultano musulmano lo fermò e lo costrinse a convertirsi all'islam. Molti seguaci, chiamati sabbateani, fecero lo stesso, credendo che uno doveva affondare morto in basso prima dell'arrivo della redenzione. Molti sabbateani affermarono anche di essere il Messia dopo la morte di Tzvi, Mordechai Mokia, Giacobbe Corido e il suo figlio Berocchia, Miguel Cardoso, di origini marrane, Lobele Prosnitz e Isaia Hasid. Nell'Europa del XVIII secolo, Israele benegliese, noto come il Ba'ah Shem Tov, fondò il hasidismo attorno al misticismo, alla semplice fede, alla gioia e al fervore nel culto, alla venerazione della guida e all'abbigliamento distintivo. Prima disse che lo studio non è tanto importante, ma poi ha cambiato parere. Giacobbe Frank, figlio di un sabbateano, sosteneva di essere la reincarnazione di Shabbatai Tzvi. Nel 1759, lui e i suoi seguaci si convertirono al cristianesimo e crearono una nuova religione, il franchismo, che mescolava il cristianesimo e l'ebraismo. Sua figlia Eva Frank sosteneva di essere l'incarnazione della Shekhinah, l'aspetto femminile di Dio, e anche la reincarnazione della Vergine Maria, e aveva i suoi seguaci. Nello Yemen del XIX secolo, Shukr Kuhayil affermava di essere il Messia e quasi tutti gli ebrei Yemeniti credevano in lui. Il sovrano lo considerò una minaccia e ordinò il suo assassinio nel 1865. Tre anni dopo, Yehuda ben Shalom dichiarò essere la sua reincarnazione e guidò un potente movimento messianico che attirò anche gli arabi. Inizialmente molto popolare, perse poi i seguaci e morì nella miseria nel 1878. Nel ventesimo secolo, molti Hassidim Lubavitch credevano che il loro rebbe, Menachem Mendel Schneerson, fosse il Messia. Lui ha spesso detto che la venuta del Messia è imminente, e ha esortato tutti gli ebrei a pregare e ad accelerare la sua venuta con atti di bontà. Lui stesso non ha mai detto di essere il Messia e ha respinto le affermazioni di altri. Dopo la sua morte, alcuni credevano ancora che fosse il Messia, ma i dirigenti di Chabad hanno sborzato queste opinioni. Generalmente, i Hassidim credono spesso che il loro rebbe sia il Messia. Concludiamo con le parole del rabbino Hanan ben Zakkai nel Talmud. Ha detto, se hai in mano un alberello e qualcuno ti dice vieni presto, il Messia è qui, prima finisci di piantare l'albero, poi vai a salutare il Messia. In altre parole, trattieni il tuo entusiasmo, non trascurare il tuo lavoro e fai attenzione ai falsi pretendenti. Shabbat shalom.